La denuncia di Forza Italia ed Energie per l'Italia cresce la rabbia per l'esclusione dell'aeroporto di Alghero e del porto di Porto Torres dal piano della mobilità turistica 2017-2022 ennesimo sgarbo nei confronti del nord-ovest Presentata questa mattina dall'amministrazione dal CEDAC la stagione di prosa e danza 2017-2018 10 gli appuntamenti in programma Come ogni sabato tutti gli appuntamenti sportivi del weekend dal calcio al basket intervista agli atleti della Power Club che hanno vinto diverse medaglie ad Olbia Bentrovati con una nuova edizione del Tg di CatalanTV che apriamo anche quest'oggi parlando dell'esclusione dell'aeroporto di Alghero e del porto di Porto Torres dal piano della mobilità turistica 2017-2022 Ieri la denuncia di Forza Italia ed Energie per l'Italia nel corso di una conferenza stampa Oggi vediamo però nello specifico di cosa si tratta Era a settembre quando i ministri del Rio e Franceschini hanno presentato alla stampa il primo piano straordinario della mobilità turistica 2017-2022 Il resto è storia abbastanza recente con la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome che ha espresso l'intesa sullo schema di decreto ministeriale il 9 novembre scorso Il piano disegna un modello basato sulle cosiddette porte d'accesso del turismo in Italia coincidenti con porti, aeroporti e stazioni ferroviarie considerate strategiche e rilevanti per il turismo internazionale e interconnessi alle reti locali e nazionali Si pone tra gli altri gli obiettivi di accrescere l'accessibilità ai siti turistici per rilanciare la competitività del turismo valorizzare le infrastrutture di trasporto come elemento di offerta turistica e promuovere modelli di mobilità turistica ambientalmente sostenibili e sicuri Ed è dando uno sguardo proprio al piano che balza all'occhio l'assenza dell'aeroporto di Alghero e del porto di Porto Torres dalle porte di accesso Ci sono solo Cagliari e Olbia con i rispettivi aeroporti e porti e questo nonostante Alghero e Porto Torres costituiscano la porta di accesso in Sardegna di rilevanti flussi di turismo internazionale Il porto turritano è infatti un numero di passeggeri ben maggiori rispetto a quello di Cagliari e Alghero da sola senza considerare il territorio nel suo complesso è la città sarda con il maggior numero di presenze turistiche Complessivamente il nord-ovest costituisce per arrivi e presenze il terzo polo turistico in Sardegna Governò nel Mirino dunque ma non solo anche la regione è stata presa di mira rea di aver avvallato tale scelta in occasione del tavolo tecnico del 18 ottobre e con la sottoscrizione del 9 novembre Appare inspiegabile l'aver escluso dal piano straordinario della mobilità turistica le due principali infrastrutture che garantiscono il collegamento con l'esterno per un intero territorio precludendogli così la possibilità di accedere ai rilevanti finanziamenti cui il piano stesso prelude è stato detto nel corso della conferenza stampa ieri ancora più inspiegabile è ingiustificabile in considerazione del fatto che il territorio del nord-ovest dell'isola possiede siti turistici di rilevo internazionale facilmente raggiungibili dalle due infrastrutture escluse dal piano come il Parco Nazionale della Sinara il Parco regionale di Porto Conte l'area marina protetta di Capocaccio a Isola Piana la Grotta di Nettuno la Miniera dell'Argentiera oltre a un incommensurabile diffuso patrimonio ambientale paesaggistico, archeologico e culturale tale scelta che segue a breve distanza di tempo quella che ha visto il depotenziamento della sanità del Sassarese e quella della mancata indicazione nell'ambito del comitato di gestione dell'autorità portuale di un rappresentante del comune di Porto Torres mentre risultano rappresentati sia a Olbia che a Cagliari risulta l'ennesima che l'amministrazione regionale in carica assume ingiustificatamente in grave danno del nord-ovest della Sardegna hanno attaccato Forza Italia Energie per l'Italia e sull'esclusione di Alghero e Porto Torres dal piano di mobilità turistica c'è da registrare anche la presa di posizione dell'ex assessore consigliere comunale Alberto Bamonti il quale parla di grave omissione che denota scarsa sensibilità politica e sociale verso i problemi generali della nostra isola non soltanto da parte della classe politica nazionale ma anche di quella locale e regionale si sperava che l'ingresso del Partito Democratico nella coalizione di maggioranza d'Alguero avrebbe portato maggiore vigore e tutela delle opportunità di sviluppo economico e sociale della nostra città e del territorio purtroppo ciò non è avvenuto denuncia Bamonti che sollecita poi il sindaco Mario Bruno perché non permanga nel suo solito stato di inutile inerzia diplomatica che già per altre questioni tra cui quella aeroportuale si è rivelata perdente soprattutto per la città di Alghero Alghero con il porto di Porto Torres prosegue Bamonti oltre ad essere la città turistica per eccellenza della Sardegna e essere un riconosciuto polo di attrazione del turismo culturale tra i maggiori in Italia nonché essere la terza città universitaria della nostra regione dopo Sassari e Cagliari e anche porta di accesso al confine italiano questo modo di imporre scelte politiche da Roma o da Cagliari che impoveriscono politicamente ed economicamente il nostro territorio deve fermarsi conclude l'ex assessore e cambiamo argomento perché ad Alghero fervono i preparativi per gli allestamenti urbani natalizi affidati quest'anno all'artista Tonino Serra che si avvale della collaborazione con gli studenti del liceo Costantino di Alghero e luce fu il nome del progetto inserito nel calendario meschi un mes del Cadean dove il soggetto principale è la luce che sarà emanata da oltre 400 lanterne che addobberanno l'albero di Natale a Portaterra Piazza Civica e le principali vie del centro storico Via Roma Carlo Alberto e Gilbert Ferret per l'installazione aerea delle lanterne illuminate si sfrutterà l'esistente struttura realizzata per i 100 anni del Giro d'Italia le lanterne saranno in tela e decorate con diversi quadrati di tessuto colorato come un patchwork a simboleggiare la ricchezza delle differenze e la bellezza che si viene a creare dalla loro unione e integrazione in questo lavoro Tonino Serra è affiancato da due professionisti della creatività come il professor Giorgio Donnini architetto della comunicazione e lo stilista Antonio Marras che per l'occasione ha omaggiato più di 8.000 pezzi di stoffe oltre 700 metri in totale che costituiranno il decoro delle lanterne di alto livello doveroso evidenziarlo lo stesso Tonino Serra assistente storico di Antonio Marras che ha eseguito lavori in tutto il mondo e recentemente è stato a Roma per una masterclass di flower design tra i migliori 26 al mondo e tra i migliori 3 in Italia le lanterne come simbolo di vita di luce interiore di rinascita dall'oscurità ha evidenziato Tonino Serra sono un simbolo di intelligenza e di quella speranza che se messa a frutto porterà a beneficio tutta la comunità per questo la lanterna del Natale Algherese sarà partecipata e realizzata dalla gente dai commercianti dai volontari le lanterne secondo la visione dell'artista avranno un simbolo che identifichi la città di Alghero con la sua cultura e le sue tradizioni per questo alla base di ciascuna lanterna verrà applicato un ramo che richiama il corallo rosso simbolo della nostra città oltre che colore simbolo del Natale un ruolo importante lo svolge il liceo artistico Costantino che collabora affattivamente con Tonino Serra da qualche giorno i locali dell'ex circolo marinai di Piazza Civica si sono trasformati in un laboratorio per la realizzazione degli addobbinatalizi una quindicina di studenti la mattina e una ventina la sera si alterneranno tutti i giorni si nei primi di dicembre coordinati dallo stesso artista un totale di circa 200 studenti con il coinvolgimento di tutte le classi del liceo artistico algherese che taglieranno e cuciranno a mano tutte le lanterne nella prosecuzione di un percorso di collaborazione tra il liceo diretto dal professor Antonio Uda e le istituzioni del territorio iniziato con gli allestimenti urbani dei 100 anni del Giro d'Italia e in ultimo con la realizzazione dello stand che ha rappresentato la città di Alghero a Parigi per il progetto dell'UNESCO nei giorni scorsi siamo andati al Circolo dei Marinai dove Maria Dolores Meloni stretta collaboratrice di Tonino Serra ha spiegato il lavoro che si sta portando avanti ciao a tutti ci troviamo qui al Circolo dei Marinai siamo con i ragazzi del liceo artistico che si stanno occupando della preparazione dell'allestimento per il Natale di quest'anno ad Alghero il progetto è di Tonino Serra Antonio Marras ha donato tutto il tessuto che andrà ad abbellire la nostra città i ragazzi lo maneggeranno e lo faranno lo evidenzieranno ancora di più Giorgio Donini ha curato anche lui l'allestimento i ragazzi ci stanno mettendo dell'oro il loro estro la loro fantasia stanno facendo di tutto per rendere al meglio l'idea di Natale che vogliamo trasmettervi quest'anno e ora la pubblicità a tra poco il Comune informa che sono disponibili presso gli sportelli del Banco di Sardegna tra la giornata di ieri e martedì 28 771 mandati di pagamento a valeri su tutte le leggi di settore si tratta della linea 1 e la linea 2 per l'abbattimento dei costi di servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di povertà transitoria e in favore di accertata povertà per lungo tempo provvidenze e rimborsi a favore di talassemici emofilici emofilipatici maligni race reddito di inclusione sociale i cui mandati sono disponibili dalla giornata di ieri a cui si aggiungono 13 beneficiari di contributi per affido minori in famiglia e 292 nuclei familiari beneficiari di misure di sostegno in favore di persone con handicap grave i cui pagamenti saranno disponibili a partire da martedì 28 novembre con gli attuali mandati per un importo complessivo poco superiore a 380 mila euro i competenti uffici di servizi sociali del comune di Alghero allinano i pagamenti con le ultime mensilità disponibili settembre ottobre novembre e questa mattina al teatro civico di Alghero l'assessora Gabriele Esposito il presidente della fondazione Meta Raffaele Saribozzola e la direttrice artistica della CEDAC Valeria Ciabattoni hanno presentato la stagione di prose e danza 2017-2018 10 di spettacoli in programma tra dicembre e aprile per quanto riguarda la campagna abbonamenti gli organizzatori hanno fatto sapere che sarà aperta il 28 e 29 novembre per i vecchi abbonati coloro dunque che desiderano rinnovare l'abbonamento mentre per i nuovi il 30 e 1 dicembre è presso lo quartè dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà una stagione ricca e che vedrà anche il coinvolgimento delle scuole ne abbiamo parlato con l'assessore Esposito è stata presentata questa mattina la nuova stagione di prosa e danza all'insegna della qualità e varietà sì, devo dire un bel cartellone 10 spettacoli più 2 di danza 10 prosa 2 di danza all'insegna della qualità grandi nomi qualche ritorno molto gradito per il nostro teatro civico Pamela Villoresi oppure l'11 dicembre Riccardo Rossi che aprirà di fatto questa stagione quindi nomi importanti spettacoli all'insegna anche dell'innovazione qualche bella novità anche dal punto di vista proprio dei linguaggi che sono stati scelti e la danza abbiamo visto che ad Alghero c'è una grande attenzione grande interesse per questa forma d'arte e quindi anche quest'anno si replica con due spettacoli davvero di grande qualità Balletto di Roma e lo Schiaccianoci molto importante infatti anche il coinvolgimento con le scuole sì, questo per noi è il valore aggiunto di questa stagione davvero dobbiamo andare a intercettare il pubblico di domani per questa ragione e soprattutto gli spettacoli mi riferisco a quelli che riguardano appunto la danza e il balletto verranno replicati proprio per le scuole un prezzo a loro dedicato dei mattini dedicati agli studenti e ai ragazzi per coinvolgerli e farli innamorare davvero del nostro teatro dell'arte della cultura e della danza questo pomeriggio alle ore 17 presso il salone di Sassegada si terrà la tavola rotonda dal titolo Acqua un bene prezioso alla presenza di sindaci di Alghero Sassari di Olmedo dei vertici del consorzio di bonifica della Nurra e dei componenti del comitato di Borgata Sassegada e Tancaffarrà l'incontro sarà un'occasione per dibattere sulla stagione in rigua sulle difficoltà incontrate dagli agricoltori a causa della recente siccità che ha colpito il territorio sulle misure adottate dal consorzio di bonifica e sulle prospettive di sviluppo l'appuntamento rientra all'interno del calendario mondo rurale 2017 la manifestazione che ad Alghero riunisce saperi e sapori dell'agro coinvolge le forze sociali e imprenditoriali del comparto produttivo con organismi di formazione innovazione e ricerca in un percorso condiviso di obiettivi e di azioni che consentono di sostenere e rilanciare l'agricoltura nel territorio comunale e intercomunale e questa mattina siamo stati a liceo Manno dove c'è stata un'importante iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne abbiamo intervistato la professoressa Vannina Oggiano una delle organizzatrici dell'evento e poi il rappresentante di istituto Jacopo Rio Violenza sulle donne importante iniziativa anche al liceo Manno di Alghero coinvolgere gli studenti è fondamentale certo penso che sia un compito importante della scuola educare e formare le nuove generazioni al rispetto e alla condanna di ogni forma di violenza noi vogliamo creare una nuova mentalità e lo abbiamo sottolineato collaborando insieme ai nostri alunni realizzando questo evento dove sì abbiamo sottolineato le forme di violenza ma in contrasto i ragazzi poi soprattutto i maschi hanno letto delle bellissime poesie d'amore per dire che loro sono uomini diversi sono uomini nuovi vogliamo sentire proprio un ragazzo che iniziativa è stata profonde emozioni comunque assolutamente l'iniziativa ha voluto principalmente far prendere posizione appunto a noi maschi studenti maschi di questo liceo attraverso uno strumento che ha fatto dell'amore uno dei suoi argomenti principali nel corso della sua storia che è appunto la poesia infatti sono state lette molte poesie in italiano in traduzione italiana alcune italiane e alcune in lingua originale in inglese e anche una canzone in tedesco quindi attraverso diversi modi di interpretare l'amore in chiave appunto poetica c'è stata data la possibilità di poter affermare oggi come tanti però come tante altre volte nel corso dell'anno la nostra posizione contro questo fenomeno di violenza sulle donne ci fermiamo per dare ancora spazio alla pubblicità tra poco e come ogni sabato ampia pagina sportiva che apriamo con il calcio vediamo quali sono le partite in programma in prima e seconda categoria da una settimana in testa al campionato c'è solo il Trezeliges seppure con una partita in più rispetto al Campanedda domani la squadra di Angelo Bardini farà visita alla San Paolo di Sassari ancora imbattuta in casa match non semplicissimo quindi per la capolista del girone L di seconda che proverà a mantenere i tre punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice impegno in trasferta anche per l'Audax che in attesa di ottenere i tre punti a tavolino del match disputato con il Maristella domani pomeriggio andrà a Villanova a Monteleone per affrontare il fanalino di coda Minerva l'obiettivo dei ragazzi allenati da Geppo Serra è tornare al successo dopo tre gare a secco giocheranno in casa invece sia il 1945 Alguero che il Maristella i giallorossi al Mariotti contro il Padria che occupa l'ultimo posto in compagnia del Minerva il Maristella invece giocherà ancora sul campo di Maria Pia e se la vedrà con la quinta forza del campionato il Mores match particolarmente importante per l'Olmedo invece nella decima giornata di prima categoria al girone D la squadra di Luca Marcomini dopo il successo contro il Bottida è ora al secondo posto in compagnia del Tiesi a meno due dal Pozzo Maggiore domani al pintore Caddeo arriva il temibile Mesuerios che ha un solo punto in meno rispetto ai Biancoverdi e ha parlato del match di domani i nostri microfoni proprio il presidente dell'Olmedo Andrea Gadeid lo sentiamo Appuntamento domani al pintore Caddeo per una partita importante perché affrontate una squadra che sta facendo tra l'altro molto bene il Mesuerios che conosciamo ormai da un po' di anni quindi è una partita impegnativa diciamo che adesso abbiamo un ciclo di partite tutte di alta classifica le incontriamo tutte adesso praticamente state trovando possiamo dire anche un po' di continuità in trasferta sì possiamo dire di sì anche perché con le botti è stata difficile perché non ne ho promossa ma molto attrezzata tant'è vero che ha pareggiato in casa del Tiesi l'obiettivo dell'Olmedo di quest'anno allora abbiamo dichiarato comunque di voler fare meglio l'anno scorso che era andata bene quindi attualmente siamo secondi quindi diciamo che stiamo rispettando quella che era la nostra tabella di marzo cioè poi quello che che viene prendiamo quali sono le squadre favorite c'è l'Ittiri probabilmente il Tiesi l'Ittiri e probabilmente il Tiesi che forse era più più attrezzata per tanti motivi quindi diciamo che ogni anno è sempre dichiaratamente intenzionata a fare il salto quindi hanno anche più più possibilità dell'Olmedo diciamo però l'Olmedo è pronto a dare un po' di fastidio come ha fatto anche l'anno scorso tra l'altro l'Olmedo sempre anche perché poi in trasferta adesso stiamo migliorando però in casa è sempre un fortino che teniamo sempre a difendere diamo un'occhiata anche gli appuntamenti di basket del weekend a iniziare dal campionato di Serie 2 femminile dove in programma la non aggiornata questa sera alle 19 al Pala Corbia la Mercedes affronta la Carispezia che torna in campo dopo tre settimane per via della partita rinviata con Savona e il turno di riposo la squadra di coach Kao cerca la seconda vittoria in campo per provare a lasciare l'ultimo posto scende in campo domani invece la Cora la Nuoro per l'ultima giornata della Serie di maschile i ragazzi di coach Granchi affronteranno il fanalino di coda e vanno alla caccia della quarta vittoria in campionato passando al campionato di promozione maschile impegno fuori casa anche per la Gabetti Palacanestro Alghiero che giocherà domani sul parquet delle Pleiadi di Macomere e passiamo ora parliamo ora di powerlifting perché lo scorso fine settimana a Olbia si svolta la Sardinia Cup organizzata dalla WDFPF e la Power Club Alghiero ha fatto incetta di medaglie abbiamo intervistato il coach Michele Marras e alcuni atleti che hanno partecipato alla gara in compagnia della squadra della Power Club che ha partecipato di recente a Olbia la Sardinia Cup della WDFPF è andata molto bene siamo in compagnia del coach Michele Marras che ha anche gareggiato ottimi risultati si ottimi risultati una bellissima gara la gara era di squat e di stacco abbiamo partecipato sia nella specialità squat e nella specialità stacco per lo squat ho gareggiato io e sono arrivato secondo i nostri ragazzi di Uri con cui collaboriamo che sono Anna Chiara Luzzo che è arrivata prima al record nazionale anche Leonardo Canu e poi ha partecipato anche Luca De Si di Uri mentre nella specialità stacco abbiamo il posto quello più prestigioso come sempre il nostro Antonio Garau che ha fatto il record nazionale e anche ufficiosamente è fatto anche il record del mondo per stabilire il record del mondo però bisogna gareggiare una gara nazionale dopodiché abbiamo Tore Caneo che è arrivato primo categoria master il nostro Giuseppe è arrivato secondo poi ha gareggiato anche per noi Antonio Ogno è arrivato primo ugualmente sempre categoria master e Andrea Marrosu sesto classificato quindi una gara dove abbiamo stabilito ancora una volta dei record nazionali sono contento che la nostra squadra sia ampliata anche grazie alla collaborazione con la squadra di Uri dove abbiamo dei ragazzi fortissimi speriamo di andare avanti a fare appunto di crescere di imporsi anche in arbitro internazionale Favol Club che è arrivata tra l'altro terza nella classifica delle squadre adesso andiamo a chiedere anche un po' il parere le impressioni per questa gara con Antonio innanzitutto con Antonio Garau che come ha ricordato Michela ha conquistato un record mondiale non ti stanchi mai Antonio di conquistare il record no è più che altro un'abitudine adesso dopo tanti sacrifici di dieta sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo quello di migliorare ulteriormente il mio record mondiale portandolo a 2,20 solo che in questo caso non è stato ufficializzato perché era una gara regionale non era una gara internazionale noi andiamo dai più giovani anche della squadra della Power Club ragazzi della pesistica Uri come è andata molto bene anche per voi si è andata molto bene è stata una bella soddisfazione fare questo primo posto e nuovi record per una nuova specialità tercanei invece non è nuovo a queste gare è arrivato un altro bel successo si anche quest'anno sono dovuto scendere di peso alla meno 67 e mezzo ho fatto un buon un buon peso che ho fatto 180 già da tanto perché prima lo facevo nella meno 75 per me è un record perché è già tanto 180 anche se l'anno scorso nei mondiali della powerlifting ho fatto 175 ho stabilito un altro record però sono abbastanza soddisfatto grazie a Michele non ci possiamo lamentare anche Giuseppe ha ottenuto un buon secondo posto si ho ottenuto un buon posto per dire che comunque era un anno che non mi allenavo a causa di un infortunio e sicuramente tre alzate da da record italiano insomma sono un ottimo riavvio dell'attività complimenti a tutti gli atleti ed è tutto per questa edizione del nostro TG noi ci vediamo domani con un altro appuntamento che vediamo l'attività che vediamo l'attività che vediamo Grazie a tutti